Dal Vangelo secondo Marco, in quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli iscrivi e gli domandò Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso, non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse, hai detto bene maestro e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui, amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse non sei lontano dal regno di Dio e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore In questa domenica ascoltiamo una delle pagine più amate e importanti dell'Antico Testamento, una preghiera che gli ebrei ancora oggi pregano tutti i giorni, è il cosiddetto Shema Israel, dalle prime parole che vogliono dire ascolta Israele. E questa preghiera che ci è riportata nella prima lettura e che cita Gesù nel Vangelo è proprio come il cuore orante dell'Antico Testamento, quello che racchiude un po' il centro di tutta la relazione del popolo di Israele con Dio e che Gesù richiama in quel dibattito su il primo di tutti i comandamenti. Lui viene interpellato, era una domanda al tempo molto importante perché i rabbini avevano i maestri, avevano contato e elencato tutti i precetti positivi e negativi, non uccidere, non rubare, eccetera eccetera contenuti nella Torah, nella legge. E questi precetti erano, sono 613, quindi una foresta di precetti. Era importante cercare di capire quale fosse il primo, cioè le cose più importanti e poi le cose meno importanti. E Gesù risponde in maniera molto tradizionale, il primo è appunto, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, amerai, amerai Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le menti. Però Gesù aggiunge un altro comandamento dicendo il secondo è questo, che è ugualmente contenuto nella Torah, però non era mai stato collegato in maniera così profonda e totale. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, nessun altro comandamento, lo dice al singolare, però ne ha detti due, è più grande di questi. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù incolla, unisce in maniera definitiva l'amore a Dio e l'amore al prossimo e anche tra le righe l'amore verso se stessi. Quindi questi tre amori, l'amore per se stessi, il sano amore verso di sé, l'amore per il fratello e l'amore per il Signore, ecco, per Gesù sono un unico amore. E il maestro lo scriba, che l'aveva interrogato, lo ribadisce, hai detto bene maestro, hai detto bene. Ecco, questo è la via, la strada. Gesù va al cuore della legge, al cuore dell'Antico Testamento, cioè l'amore, l'amore per Dio e per il prossimo inseparabilmente uniti anche per noi. Questo è un cammino, il cammino di imparare ad amare. Non basta dire di amare Dio se non siamo nei fratelli, come ripeterà tutto il Nuovo Testamento, ma quando uno ama veramente il fratello, le persone, fa esperienza di Dio anche se non lo sa, anche se non si accorge, ma noi lo sappiamo per la parola. E soprattutto c'è un comando ancora previo a tutto questo, che è ascolta Israele. Forse il primo comandamento, diciamo, di cui tener conto è proprio questo. Se tu hai un cuore che ascolta, che ascolta la voce di Dio, che ti parla nel cuore, allora imparerai ad amare e imparerai ad ascoltare anche i fratelli, il primo gradino dell'amore.